Mister Silveri, prima sconfitta di questo campionato in casa contro la Rignanese al termine di una parità che sicuramente non l'ha lasciata soddisfatta nemmeno per la prestazione? No, soddisfatto per la prestazione non mi ha lasciato ovviamente, però sapevamo che noi davanti avevamo un avversario che punta a vincere il campionato, quindi insomma sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato oggi. Detto questo, continuo a dire che ancora c'è qualcosa che non va. Dove finiscono i meriti della Rignanese e dove iniziano i demeriti della Valdaccio? Ovviamente è una domanda un po' complicata, però secondo lei? È difficile dirlo, nel senso loro sono molto bravi, quindi iniziano dal fatto che loro sono bravi e noi ancora non siamo alla loro altezza probabilmente. L'inizio di secondo tempo lasciava presagire forse qualcosa di più con l'occasione di Quadroni e poi quella di Bartolo? Sì, siamo entrati in secondo tempo un pochino più determinati, è una cosa che ci capita spesso, anche la prima partita è così, insomma anche la domenica scorsa noi in secondo tempo veniamo fuori un pochino meglio, però diciamo che là davanti siamo un po' imprecisi e ancora un po' troppo confusionari per poter impensierire difese importanti come quella della Rignanese. L'ha provato un po' tutto anche l'inserimento di Gennari, però nulla è valso? No, a Gennari è un ragazzo in gamba, il problema è che ancora secondo me, così come altri, i nostri sottocuola sono tutti bravi ma ancora non completamente pronti per un campionato importante e duro come questo dell'eccellenza. Ovviamente la prima sconfitta porta anche un po' di delusione, ora bisognerà evitare il contraccolpo psicologico perché c'è subito da ripartire fino a domenica prossima, altra gara interna. Al contraccolpo guarda non ci sarà, te lo assicuro, nel senso che noi sapevamo che avremmo affrontato una partita importante e quindi il risultato della sconfitta poteva anche starci.